Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una puntata speciale del Chiediola Matteo. È speciale prima di tutto perché siamo in diretta e poi perché siamo ospiti della concessionaria Renault del gruppo Carmeli qui a Brescia. Puntata specialissima del Chiediola Matteo e come tutte le puntate speciali il tema è circoscritto. Quindi potrete farmi, come sempre, tutte le domande che vorrete ma su un tema specifico. Quello di oggi qual è? L'elettrificazione Renault. Perché abbiamo scelto l'elettrificazione Renault? Perché Renault ha un sacco di belle novità in tema di ibrido, di ibrido plug-in e anche di elettrico da presentare. Le auto stanno arrivando proprio in questi giorni nelle concessionarie e quindi abbiamo pensato di fare questa puntata per raccontarvele. La vera grande novità di questa puntata del Chiediola Matteo è la tecnologia Hybrid E-Tech. Così l'hanno chiamata i francesi della Losanga all'ombra della Tour Eiffel. A Parigi. Ma che cosa si nasconde dietro a questo nome E-Tech? Beh, si nasconde una tecnologia ibrida, devo dire, veramente insolita. E io faccio chapeau alla Renault perché non hanno copiato. Perché non si sono limitati a imitare sistemi full hybrid esistenti. Un po' come fanno, devo dire, tanti costruttori automobilistici. Mi hanno detto, no, noi lo facciamo per conto nostro e lo facciamo come diciamo noi. E la storia è abbastanza affascinante. Perché questo sistema ibrido è abbastanza originale, fuori dal coro, ma è originale e fuori dal coro anche l'origine di questo sistema ibrido. Perché dovete sapere che la tecnologia E-Tech della Renault nasce circa una decina di anni fa, siamo nel 2010. Un progettista della Renault ha questa intuizione geniale di fare un ibrido senza usare né un cambio a doppia frizione né un CVT. Ma di utilizzare un robotizzato senza la frizione, senza l'elettromarcia e nemmeno senza gli attuatori. Qualcosa di impossibile. Lui lo teorizza e lo costruisce addirittura con i mattoncini della Lego. C'è una storia incredibile, a parte che c'è tanto di cappello a questo ingegnere che ha un'idea di notte. Io me lo vedo che la mattina si mette lì con i mattoncini e costruisce un sistema ibrido con la Lego. Cioè io ero bravo magari a fare la casetta e la macchinina. Invece lui ha costruito un sistema funzionante con gli ingranaggi che giravano veramente. Quindi devo dire un genio. Sottopone questa idea ai vertici della Losanga a Parigi che gli dicono, ma tu sei un genio, questa idea è meravigliosa. Semaforo verde, mettiamola in produzione. Siamo nel 2010, quattro anni dopo al Salone di Ginevra, se non sbaglio, arriva un primo prototipo con questo sistema che però è un po' ancora rudimentale. Le marce del cambio sono solo tre, si capisce che un motore elettrico solo non basta. Si continua a investire, si continua a sviluppare e alla fine siamo nel 2020. L'ITEC è pronto, qui in carne ed ossa è arrivato sulle auto. Si può comprare, si può guidare. Vi dicevo, un sistema diverso da tutti gli altri. Quindi vediamo com'è fatto partendo dalla Clio, che è un po' la prima auto su cui arriva questo nuovo ibrido full. Quindi non milde, non il microibrido, un ibrido full, quindi si viaggia anche in elettrico, che arriva sulla Clio appunto. Com'è fatto? Allora, c'è un motore termico a benzina, è ancora lì al suo posto. Un 1.6 quattro cilindri aspirato che ha circa una novantina di cavalli e in realtà è di origine Nissan. Sapete che Renault fa parte del gruppo Renault Nissan e quindi i due costruttori si scambiano know-how e si scambiano tecnologie. Il motore termico classico a benzina è poi affiancato da una prima unità elettrica, da un motore elettrico che genera motricità, che quindi serve a fare girare le ruote nelle fasi di ripartenza e che appunto è proprio un motore di trazione. Però c'è anche un secondo motore in questa tecnologia che ha due compiti principali. Il primo è quello di portare il motore termico a regime giusto per innestare i rapporti di questo cambio elettratuato, che la frizione non ce l'ha, appunto senza che ci sia bisogno di una frizione. Il motore elettrico gira, avvia il motore termico, il motore termico raggiunge il numero di giri giusti e la marcia si può innestare anche senza la frizione. In pratica avete mai provato, non andrebbe fatto, a cambiare con il cambio manuale senza la frizione? Diciamoci la verità, abbiamo provato un po' tutti. Se azzeccate e riuscite a sentire bene il motore, anche su un'auto manuale non fatelo perché il cambio non è proprio contento quando lo fate, però effettivamente se beccate il regime giusto, bam, la marcia entra anche senza che voi schiacciate il pedale alla frizione. Ecco, l'e-tech fa più o meno questa cosa, solo che questa cosa è permessa da un motore elettrico. La seconda funzione di questo motore elettrico asuliario è quella appunto di riavviare il quattro cilindri a benzina ogni volta che serve. Quando, lo sapete, il full hybrid, come funziona? L'auto parte in elettrico, fa i primi metri, le prime centinaia di metri e poi quando il motore elettrico non ne ha più, non ce la fa più, tac, attacca quello termico. Qual è il vantaggio di questo sistema e-tech con questo cambio che loro hanno chiamato multimode, così particolare? Perché è un elettro attuato che però non ha gli attuatori, quindi è un elettro non attuato, io lo chiamerei così, che ha solo quattro marce, le prime due non ci sono e non ha la retro perché la retro si fa con il motore elettrico. Quali sono i vantaggi? Beh, intanto, non abbiamo l'effetto trascinamento tipico del cambio che simula il CVT come quello, per intenderci, delle Toyota full hybrid, ma abbiamo degli innesti di marcia reali, non c'è la frizione però l'innesto di marcia avviene realmente, quindi il piacere di guida è più salvaguardato, è più simile a quello di un'auto tradizionale e poi il sistema è molto efficiente, quindi si riesce a viaggiare per tanto, tanto, tanto tempo in elettrico e questo è l'obiettivo principale, è l'obiettivo principe di un progettista che si metta a progettare un sistema full hybrid, perché più il sistema sarà efficiente, più sarà in grado di viaggiare in elettrico senza mai scomodare il termico, senza mai farlo accendere, senza mai bruciare benzina, beh, voi capite, più sarà efficiente un sistema, devo dire, è pazzesco questo delle marce che entrano senza frizione, mi ha un po' stregato dal punto di vista tecnico, me lo sono dovuto studiare un po' bene per capirlo. Sulla Clio il sistema ibrido totale ha 140 cavalli, il piacere di guida c'è perché non c'è l'effetto CVT, vi ho detto, ma anche perché insomma si parte in elettrico la spinta e la coppia tipica dell'unità elettrica, ormai un po' la conosciamo sulle auto, quindi si parte sempre in elettrico, c'è una bella spinta, una bella coppia. La batteria è posizionata, come forse avete visto anche quello schema che dalla regia mi hanno mandato mentre vi spiegavo, eccolo qua che bravi, puntualissimi, batteria 1.2 kWh sistemata sotto al divanetto, che funziona la batteria come tutte le full hybrid, recupera energia durante le decelerazioni e frenate da poi restituire al sistema ibrido. Vi dicevo, un sistema particolare, molto efficiente, diverso da tutti gli altri, con questo cambio multimode molto strano, quali sono i livelli di efficienza? Beh, in condizioni reali, ho un po' guidato questa Clio E-Tech, pensate che in città il regno d'elezione di ogni tecnologia full hybrid, perché con i continui stop and go, si recupera tanta energia in frenata e se ne ridà tanta in ripartenza, con la Clio si riescono a fare 26-27 con un litro, voi capite che è un risultato eccezionale. Di media sono riuscito a fare 22-23 con un litro, che è un signor risultato, e perché la media è così alta? Perché anche in autostrada, quindi quando viaggio con l'auto a velocità sostenuta e soprattutto costante, 120-130, beh, solitamente i sistemi full hybrid soffrono perché non possono recuperare energia e si va solo col termico, mi porto appresso anche la zavorra del sistema ibrido, batterie e quant'altro, e quindi si consuma un po' di più. E invece alla Renault, io ancora mi devo togliere il cappello davanti a quel progettista che l'ha progettato di Lego, anzi io vorrei avere in camera il Lego con cui ha costruito questo sistema ibrido a questo punto, cosa ha fatto? Lui ha detto, beh, ma se tanto io ho questo motore elettrico che riesce a trascinarmi, quello termico, e quindi io riesco a buttare dentro le marce facendolo girare a regime ottimale, io sfrutto l'elettrico nelle fasi di partenza, no? E chiamo in causa il termico con una rapportatura speciale del cambio soltanto quando il termico gira a regimi ottimali, cioè quando chiamo in causa il motore a benzina soltanto quando il numero di giri mi garantisce il massimo rendimento. E anche questa è una notizia, e infatti io in autostrada sono riuscito a fare 18-19 con un litro. Quando un'ibrida, full hybrid, direttamente paragonabile a un segmento B come la Clio, vabbè, l'avete capito, la Toyota Yaris, di solito in autostrada rimane intorno ai 15-16 con un litro. Quindi insomma un'auto che ha un sistema ibrido molto diverso, ma che ha dimostrato anche di essere particolarmente efficiente. Io adesso però vorrei magari anche andare all'interno di questa Clio perché quest'auto ha fatto notizia, sì, almeno a me mi ha colpito per il sistema ibrido così particolare, ma un po' mi ha colpito anche per la qualità degli interni che voi vedete è cambiata molto rispetto al passato. Non so se vi ricordate la Clio di precedente generazione, beh, qui insomma la qualità percepita è sicuramente migliore. La plancia ora ha questo display verticale e anche i materiali che io vado a toccare sono sicuramente, cioè trasmettono sicuramente una qualità percepita. Tutto quello con cui le mie mani vengono in contatto è sicuramente più piacevole da vedere e da toccare. Questa è un po' una seconda notizia, ma vi dicevo un full hybrid pensato per la Clio con i valori di consumo che vi ho raccontato, ma un full hybrid che è stato declinato anche sulla SUV, la baby SUV della Renault, la Captur, segmento B, SUV compatta per la città. Fino ad ora arrivava con motori tradizionali, bene, ora arriva anche con il nuovo e-tech, ma in una versione un po' diversa rispetto alla Clio, perché non solo qui ho più potenza di output totale del sistema, perché ho un motore termico più potente, perché ho un'unità elettrica che dà motricità più potente, quindi invece che 140 cavalli qua ne ho 160 e meno male, perché se non SUV qui ho anche 400 kg circa in più da portare a spasso e quindi serviva a dare un po' più di potenza per avere prestazioni paragonabili. Kili in più che si giustificano con una carrozzeria SUV, che tipicamente si porta presso una massa maggiore, ma anche col fatto che questa non è una full hybrid come la Clio, ma è una plug-in hybrid, cosa vuol dire che qua dietro ho un altro serbatoio, o meglio, un altro bocchettone di rifornimento, di là o quello della benzina, qui posso attaccare una spina, ricaricare l'auto nel mio garage e godere di circa 45-50 km in modalità full electric, quindi in questi 45-50 km ho un'elettrica sostanzialmente, il motore termico non si accende mai e non consumo nemmeno una goccia di benzina. Com'è possibile? Eh beh, la differenza principale rispetto a Clio, più potenza del sistema ibrido, ma anche una batteria diversa, 1.2 kWh sulla Clio, piccolina, perché serve solo a recuperare l'energia in frenata, in decelerazione, mentre qui 9.8 kWh, quasi 10 volte tanto, una batteria sempre allocata sotto il divanetto, ma molto più capiente, la ricarico in garage e mi sparo 45 km in elettrico. Captur, che è diversa, quindi perché è plug-in, quindi perché viaggia anche in elettrico per quei chilometri che vi ho detto, ma anche perché è un bisuv, e quindi qui io viaggio 11 cm più in alto rispetto alla Clio. Questo ovviamente piacerà a tutti coloro che cercano un SUV, a quelli che amano la guida alta. Io lo sapete, sceglierei la Clio ovviamente, però devo dire che ovviamente a chi piace la guida alta qui è sicuramente più appagato. Vi dicevo della plancia della Clio, vediamo qui bene quella della Captur, l'impostazione è quella della Clio, schermo 9.3 pollici, con un sistema multimediale proprietario di Renault, che devo dire è sempre piuttosto completo, piuttosto rapido al tocco, Apple CarPlay e Android Auto non mancano, e poi qui strumentazione davanti a me interamente digitale, da 10 pollici, più ampia di quella della Clio che ce l'aveva da 7, plancia, le due auto sono strettamente imparentate a livello di tecnologia e piattaforma, lo sapete. Quindi l'impostazione è quella di sempre, però qui ho il tunnel sospeso, vedete un vezzo stilistico, un vezzo dei designer, che però devo dire è abbastanza originale, qui vedete è cavo qui sotto. Ovviamente questa configurazione non si può avere su una classica Captur cambio manuale, perché qui sotto ci sarebbero i leveraggi del cambio. Ovviamente, come tutte le plug-in, su una Captur, vi ho parlato dei valori di consumo nelle condizioni di guida reali della Clio, su una Captur è un po' diverso, nel senso che ovviamente più io ricarico, io vi consiglio almeno tutte le sere, più io riesco a viaggiare in elettrico, a chiamare in causa almeno possibile il termico, e quindi si riescono a fare anche 30-35 con un litro, dipende quanto ricaricate. Ma se ho la batteria scarica e devo andare a benza? Si può fare, ovviamente, a quel punto la Captur inizia a funzionare come la Clio, cioè recupera energia in frenata e la restituisce in partenza, e in questo caso, per via anche di un peso superiore di un'aerodinamica, sicuramente meno favorevole a quella di un'auto più tradizionale, bassa e più leggera come la Clio, sto intorno ai 16-17-18 con un litro. Ecco, per darvi un'idea. Quindi, un sistema ibrido molto molto particolare, ma io adesso, scusate se prendo il telefono, ma non è per farmi ovviamente i fattacci miei, ma è per entrare un po' nel vivo del chiedilo a Matteo. Visto che ho parlato un sacco, vi ho spiegato questa tecnologia che almeno a me mi ha stregato, iniziamo a vedere se c'è qualche domanda e rispondiamo in diretta. Allora, ecco Bruno, che saluto, ciao Bruno, intanto fa una domanda molto concreta. I danè, come si dice un po' a Milano, i soldi, quanto costano queste auto? Ma il Bruno va ancora oltre, e per questo mi piace. Tenendo conto degli incentivi, è più conveniente la Zoe o la Clio Hybrid? Beh, ragazzi, questa è una bella domanda, nel senso che sicuramente su una macchina ibrida come Clio l'eco-incentivo che c'è in questo momento mi dà circa, con rottamazione di un'auto vecchia, 3.750 euro, quindi non male. Su invece un'auto full electric, questo eco-incentivo almeno raddoppia, diciamo, quindi è sicuramente più interessante su Zoe. C'è da dire, Bruno, che però la Zoe costa pure di più della Clio. Quindi hai l'incentivo più alto, però il costo d'acquisto iniziale è più alto, per cui bisogna farsi i conti in tasca. Secondo me è comunque più conveniente la Clio, soprattutto perché è un'auto comunque più versatile, con cui puoi fare più strada e anche viaggi fuori porta frequenti. E poi vi dico il prezzo a questo punto, 22.000 euro circa, si parte da poco meno di 22.000 euro prezzo d'attacco per la Clio full hybrid, i tech, dicono i francesi, e voi capite che con 3.750 euro di incentivo scendiamo sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro. Cosa vuol dire? Che vi potete prendere una macchina super tecnologica dal punto di vista del powertrain, del motore, è anche super efficiente, e pagarla più o meno con una Clio tradizionale. Quindi è il momento, secondo me, di pensare all'ibrido e se magari volevate prenderla col motorino Benza di ingresso base, ci sta, però in questo momento c'è l'incentivo se vi fate due conti vi portate a casa un'auto sicuramente più tecnologica che per di più è automatica, quindi non ha il manualone ed è pure più comoda. Federico su Facebook mi chiede, o ci chiede automoto Matteo, chiede in generale, domanda a Bruciapeo, la tua preferita delle tre? Allora, io mi sembra che in parte di averlo già confessato è sicuramente la Clio, perché sapete che il mio cuore proprio non batte per i SUV solitamente, trovo che la nuova Clio sia molto bilanciata da un punto di vista estetico e soprattutto mi ha stregato questa tecnologia full ID proprietaria sviluppata interamente dalla Renault. Che bello quando i costruttori invece che scopiazzarsi a vicenda, cosa sempre più frequente, non perché sono pigri o perché sono cattivi, ma perché ci sono tutti dei motivi, secondo me le aziende di componentistica sono sempre quelle, le tecnologie se le passano, e quindi spesso abbiamo prodotti che tendono un po' a omologarsi sempre di più. Invece no, che bello che questa volta c'è qualcosa da raccontare, in un chiedilo a Matteo c'è qualcosa da raccontare diverso dal solito. Daniele, Facebook, quanto consuma la Clio in città? Io sono riuscito, giuro, a fare 26, 27 con un litro. È vero che io quando guido un'ibrida mi gaso a guidare per sfruttare al massimo il potenziale di questa tecnologia, cioè non mi piace salire su un'ibrida giù tutto, tutto il tempo, perché secondo me non nasce così, per essere guidata così un'auto del genere. Quindi cerco di guidare da, diciamo, uovo col cappello e un po' con l'uovo sotto l'acceleratore per vedere come lavora il sistema, per vedere qual è il livello di reale efficienza al di là del dato omologato e sono riuscito a fare 26 con un litro. Ma torniamo alle domande magari tra un pochino perché come vedete qui c'è anche un'altra nostra compagna di viaggio in questo chiedilo a Matteo che è la Renault Zoe. Quindi Renault arriva nel mondo del full hybrid e lo fa in maniera convinta con full e plug-in ma lei c'è nel mondo dell'elettrico anche da tanto tanto tempo. Sapete che l'alleanza Renault-Nissan è stata uno dei primi gruppi a credere nel full electric e continua a farlo anche oggi. Zoe, una piccola auto direi di segmento B 100% elettrica quindi benzina pistoni e distributori proprio non c'è traccia. Zoe un'auto nata in realtà per la prima volta nel 2012 e oggi aggiornata con un bel restyling fuori il design era secondo me già molto innovativo per l'epoca nel 2012 e infatti oggi non sfigura ancora quest'auto mi sembra abbastanza attuale. Hanno giusto riprogettato le parti molli come dicono gli addetti ai lavori quelli un po' che se la tirano cioè i paraurti le parti in plastica che vedete sono più moderne qui nella zona per esempio dei fog light cioè dei fendinebbia però la vera novità della Zoe diciamo restyling aggiornata della Zoe 2020 una prima vera novità la vediamo all'interno adesso qui un po' suona perché si è arrabbiata visto che ho aperto la portiera e ci sono le luci accese però come potete vedere qui l'abitacolo è stato riprogettato i sedili sono stati riprogettati ma soprattutto la plancia plancia che non so se vi ricordate come era quella della vecchia Zoe ma iniziava insomma a far sentire un po' il peso degli anni qui invece riprende le impostazioni che abbiamo visto su Clio lo schermo non è così esteso non è così verticale ma è comunque piuttosto ampio schermo da 10 pollici digitale qui davanti tunnel un po' sospeso e anche qui molta più cura per i materiali ci voleva il Renault secondo me con questa nuova generazione di modelli si è visto veramente un cambio di passo rispetto alle generazioni precedenti guardate che bello il tunnel anche qui sospeso tipo Captur rivestito in tessuto una soluzione molto alla francese che però mi piace me garba molto curato ok hanno rinnovato gli interni voi direte vabbè basta tutto qua no perché la Zoe pensate che ora ha una nuova batteria che è arrivata ad avere 52 kilowattora di capacità cosa vuol dire beh che è una bella batteria bella grossa soprattutto per una city car 52 kilowattora su una batteria molto grossa pensate che quando nacque quest'auto sostanzialmente aveva un pacco batterie molto più piccolo se non vado errato da 22 kilowattora quindi guardate quanto è cresciuto la macchina è rimasta la stessa il pacco batterie ai piedi dei passeggeri è raddoppiato si è gonfiato e quindi si è gonfiata anche l'autonomia se prima si riuscivano a fare 160 chilometri circa con una Zoe prima serie 2012 oggi con questa si riescono a fare più di 300 chilometri reali quindi un'autonomia che è raddoppiata una macchina che si può ricaricare diciamo anche in garage come la Captur però lì abbiamo 10 kilowattora scarsi di batteria qui 50 quindi voi capite che lì dobbiamo buttare dentro molta più corrente qui basta una presa domestica meno di 5 ore avete il pieno questo cosa vuol dire che non dovete cambiare il contratto dell'Enel perché i 3 kilowatt che avete di default secondo me bastano se ricaricate di notte e poi meno di 5 ore vuol dire che banalmente io quando ho le plug in cosa faccio vado a casa la sera la metto in garage la attacco alla presa domestica io ho il contratto normale da 3 kilowatt mentre dormo non faccio la lavatrice né stiro né faccio andare lavastoviglie che sono insomma gli elettrodomestici che assorbono di più lei si ricarica pian pianino la mattina alle 7 alle 8 ce l'ho carica e ho i 40 45 50 chilometri elettrico questa potete fare la stessa cosa però il processo di ricarica di rifornimento di elettricità sarà molto molto più lungo 5 volte più lungo direi quindi se andate su una Zoe quindi su un'auto 100% elettrica io Matteo vi consiglio almeno una Wallbox che mi porta ad avere un po' più di potenza di picco di ricarica e proprio a questo proposito volevo dirvi che le auto che vedete qui sono arrivate in cardedossa si possono guidare quindi venite in concessionaria il gruppo Carmeli peraltro fa una bella iniziativa secondo me perché le auto è sempre bello raccontarle è sempre bello descriverle è sempre bello vederle e informarsi però poi è bello anche guidarle soprattutto quando c'è una tecnologia ibrida così dirompente così diversa che va provata per capire fino in fondo un po' come lavora un po' come funziona un po' qual è il feeling di guida un po' qual è il reale livello di efficienza che mi sa garantire nel mio personale utilizzo quotidiano bene gruppo Carmeli qui mi ha raccontato che le auto sono a disposizione per dei test drive di 24 ore quindi per tutti voi che ci state seguendo qui in diretta chiedilo a Matteo beh insomma è una bella opportunità passate a farvi un giro qui in Renault a Brescia gruppo Carmeli e potete avere una full hybrid o anche la plug in hybrid e perché no anche la Zoe per 24 ore ci sta secondo me perché sono tecnologie molto diverse rispetto a quelle che troviamo su un'auto tradizionale quindi se venite da un'auto diesel o benzina beh ci vuole un po' per capire informarsi capire come spendere i propri soldi quindi un test drive così lungo approfondito di 24 ore dove siete da soli e ve la spupazzate come volete voi beh secondo me è una bellissima opportunità e poi vi parlavo di wallbox cioè per un'elettrica full 100% elettrica come la Zoe vi dicevo la ricarica domestica come ricaricate lo smartphone inizia ad andare un po' stretta e quindi anche qui il gruppo Carmeli mi ha raccontato che se decidete di fare il passo come dico io di gettarvi a capofitto nel futuro e di iniziare a guidare un'auto a elettroni senza la benzina 100% elettrica come la Zoe beh loro se l'acquistate insomma vi mandano un tecnico specializzato a casa vostra per un preventivo gratuito per capire come fare se si può installare la wallbox quale wallbox installare che potenza di corrente si può avere a casa vostra che modifica all'impianto devorebbero essere fatte se devono essere fatte e anche questo è un bel modo per avvicinare al mondo dell'ibrido perché io scusate al mondo dell'elettrico perché io mi compro l'elettrico ok la porto a casa e poi magari sono un po' cioè devo farmi tutto da me devo informarmi chiamare il fornitore di energia capire cosa posso fare se vivi in un condominio capire no anche a livello di condominio cosa posso cosa non posso fare invece no qui avete una consulenza gratuita e in più se comprate una plug in un'elettrica qui al gruppo Carmeli mi hanno anche detto che vi verrà consegnata una smart card che vi permetterà di fare tutta una serie di ricariche per un tot di chilometri un bel po' di chilometri insomma comprese nel prezzo d'acquisto quindi i primi i primi tragitti in elettrico li fate gratis compresi nel prezzo quindi io vi ho raccontato un po' come funzionano queste auto mi sembra di avervi raccontato un bel po' ma qui vedo io ho la nostra Giulia social media manager di automoto che è dietro le quinte ma qui insomma io ringrazio tutta la squadra perché qui ci sono veramente tanti nostri colleghi di automoto che hanno reso possibile questa bella diretta questa bella puntata le chiedono a Matteo e Giulia mi sta inondando di domande quindi io sono contento perché vuol dire che ne stanno arrivando tante Daniele su Facebook quanto costano gli incentivi se rottamo diciamo che più o meno li abbiamo detti soprattutto mi sembrano interessanti 6500 euro su plug-in se rottami e soprattutto qui si dimezzano quindi 3750 per Clio attenzione Paolo su Gruppo Carmeli Renault perché siamo in diretta su Facebook di Gruppo Carmeli ma anche sul sito Renault.it Gruppo Carmeli arrivano le domande anche lì ho provato questa mattina la Captur l'ho trovata bellissima Paolo si chiama Paolo questo utente che ci sta seguendo se la batteria è scarica però come saranno i consumi abbiamo cercato di rispondere anche a questa domanda Paolo ma te lo ridico batteria scarica a questo punto non esiste più il plug-in e quindi la Captur diventa una Clio diventa una Clio e-tech una Clio full hybrid perché non ho più la ricarica che ho fatto di notte ma cos'ho 350 400 kg in più da portarmi a spasso perché la macchina è più grossa è un SUV più pesante ho un po' più di potenza sia dal motore termico che dall'elettrico ho più ho dei motori più esigenti da sfamare e quindi è normale che non ho i livelli di efficienza di Clio e quindi siamo sui 16, 17, 18 con un litro almeno questa è quella che è stata la mia esperienza con batteria scarica di Captur allora Michele Turba sempre su Renault.it gruppo Carmeli non su Facebook a quando l'ibrido diesel di Renault avete un 1500 eccezionale una tecnologia ibrida ottima sarebbe bello beh la suggestione è ottimale perché io sottoscrivo quello che ci dice Michele cioè il 1500 DCI DCI eh anche io ragazzi negli anni ne ho trovato un super diesel anzi un super dieselino perché consuma veramente poco eh l'ibrido Renault l'abbiamo visto così estroverso così particolare così fuori dal coro così diverso da tutti però alla fine poi funziona addirittura meglio di altri in termini di efficienza sarebbe una copiata vincente però sapete che i diesel sono un po' sulla via del tramonto per tutta una serie di motivi eh e quindi diventa difficile secondo me pensare che dopo un investimento così grosso importante per mettere appunto questo powertrain così eh così appunto importante dal punto di vista degli investimenti mi sembra difficile che possa arrivare anche sul diesel che è un motore più difficile lo sapete da omologare soprattutto con le nuove norme sempre più stringenti secondo me va bene così voglio dire cioè un'auto che ti fa 22-23 di media che in città ti fa 26-27 ed è benzina eh mi sembra mi sembra un signor un signor consumo Anonymous questo me lo chiamano così quindi un anonimo sul sito sempre del gruppo Carmeli Renault eh aspetta quanto fa la Captur se la batteria scarica l'abbiamo detto 16-17 Diego su Facebook invece quanti chilometri posso fare con Captur plug-in in elettrico ovviamente dipende dal tuo piede Diego cioè se sei un piccolo Schumacher un piccolo Leclerc eh amico mio inizia a farmi un off col gas anche se di gas non ce n'è molto in un'auto elettrica comunque col pedale che un tempo fu del gas e beh è chiaro che la batteria mi va giù presto se sei un po' più nonno seguidi un po' più come me in maniera un po' più efficiente beh a quel punto riesci a fare più di 40 km di sicuro 45 secondo me se sei super bravo ti metti un bel paniere di uova sotto il pedale dell'acceleratore riesci pure a sfiorare i 50 km in elettrico quindi un sacco di domande Sandro chiede buonasera vorrei sapere quanto costa sostituire la batteria di una Clio ibrida immagino che si riferisca Sandro alla batteria non dei servizi diciamo quella 12 volt ma quella da 1.2 kWh del divanetto che alimenta il sistema ibrido ecco solitamente queste batterie sono garantite soprattutto sui full hybrid così sono garantite insieme sono garantite a vita o comunque per molti più anni rispetto ai due diciamo per legge che coprono invece la macchina soprattutto su un full hybrid secondo me non c'è non si pone un tema di vita utile della batteria cosa che invece si pone per un full electric perché il full electric ovviamente la sua vita la sua motricità dipende interamente dalla dipende interamente dalla batteria quindi sono arrivate tante domande e mi sembra una puntata veramente ricca del chiedilo a Matteo io volevo anche dirvi un po' i prezzi di nuovo perché li abbiamo detti un po' all'inizio perché è arrivata una domanda in diretta però è sempre un po' importante puoi andare a capire di cosa stiamo parlando partiamo da questa che forse è un po' più ambita perché in Italia sapete e anche in Europa in verità anche in tutto il mondo i SUV piacciono vanno per la maggiore tutti vogliono questi SUV con la guida alta i crossover allora parto da Captur 33.000 euro circa prezzo d'attacco però attenzione con rottamazione abbiamo appunto quei 6.500 euro di incentivo quindi andiamo abbondantemente diciamo entro la soglia dei 20.000 euro anche qui un buon momento almeno per venire a farsi un giro in concessionaria nel senso che a un prezzo paragonabile a quello di una SUV con motore tradizionale qui entri metti un piedino in un nuovo mondo un mondo fatto di ricariche la sera di mattinate in cui vai a lavoro magari se devi fare 30-40 km in elettrico poi se sei fortunato come il nostro collega Luca Bordoni che al lavoro ha pure lì la colonnina tu ricarichi e mi torni a casa pure la sera in elettrico allora il benzinaio quando lo vedi magari il fine settimana quando vai a farti un giro quindi diciamocelo a noi appassionati di auto per noi appassionati di auto le automobili piacciono e per noi le automobili sono sempre un po' dei giocattoloni io l'ho visto tanto con amici conoscenti colleghi che hanno auto plug-in diventa un po' un divertimento diventa un po' un gioco poi stare dietro capire quanto si riesce a consumare quanto si riesce a fare in elettrico quando sei in giro magari con le app io uso charge map per esempio andare a beccarsi dove c'è una bella colonina e ricaricarla magari beccare quella comunale che è gratis e sai la soddisfazione di farti 40 km in elettrico nel silenzio con la spinta del boost elettrico senza aver speso neanche un euro e quindi diciamo che le plug-in oltre a essere sensate per tutto un tipo di automobilista che è un po' abitudinario che tutti i giorni fa una distanza classica una distanza che rimane sempre quella sono anche un po' io lo ammetto sono anche un po' un divertimento e su Clio che è quella che vi ho detto è quella che mi ha convinto di più si riescono ad ottenere livelli di efficienza ancora più sorprendenti meno peso migliora aerodinamica è un full quindi qui non posso ricaricarla in garage con la corrente però il sistema ha un po' meno cavalli 140 contro 160 però riesco a fare dei signor consumi in media 22-23 con un litro con punte di 26-27 in città i tassisti saranno felici sapete che loro sono amanti del librido visto che fanno tantissimi chilometri in strada e è vero per rispondere anche alle domande di prima la tecnologia plug-in mi è venuto in mente adesso che non mi ho detto una cosa la stessa tecnologia plug-in che abbiamo visto su Captur in realtà non è confinata solo al bisuv Renault Captur ma c'è anche sulla Megane station sapete che io sono un amante delle station quindi se volessi invece un plug-in Renault piuttosto che sulla Captur per quello che è il mio gusto per quella che poi è la mia esigenza di automobile come auto di famiglia piuttosto la prenderei sulla Megane station che c'è plug-in e anche questa è una bella novità vediamo se ci sono qualche domande a livello di ADAS a livello di ADAS a livello di ADAS mi chiedete ADAS ormai lo sappiamo un acronimo dietro cui si nascondono i sistemi di assistenza la guida sempre più richiesti sono due progetti molto freschi Renault Clio è arrivata l'anno scorso in questa nuova generazione e quindi mi sembra che non sia tutto di serie cioè il pacchetto con i sistemi più completi si ha con gli allestimenti un po' più ricchi però di fatto si ha un livello di assistenza di guida due cosa vuol dire cruise control adattivo l'auto mantiene la velocità in base al traffico al veicolo che precede quindi frena e accelera tra virgolette da sola mantenimento di carreggiata quindi se ha uno sbandamento l'auto legge le linee e mi ributta dentro così non rischio di uscire di strada involontariamente monitoraggio dell'angolo cieco e anche l'avvisatore di stanchezza cioè l'auto un po' capisce se ho un colpo di sonno e mi avvisa anche molto importante e poi è arrivata un'altra domanda che qui la nostra Giulia gli automoto me la manda che differenze ci sono di Zoe 110 135 è vero perché ha ragione questa ascoltatrice anzi scusate un ascoltatore Bruno nel senso che nuova batteria nuova estetica nuova plancia però con questa nuova versione di Zoe tra l'altro l'hanno provata anche i nostri Galeazzi e Bordoni sul nostro canale youtube di automoto c'è una novità anche un motore elettrico più potente prima eravamo intorno ai 100 cavalli adesso ce n'è uno da 136 cavalli quindi un po' più vispo lo 0,7 si fa in 8 secondi abbondanti quindi insomma per un'auto di segmento B cittadina direi un bel tempone è una macchina molto frizzante e poi lo sapete le elettriche pure come Zoe fanno notizia molto sullo 0,50 cioè proprio nei primi metri appena partiamo al semaforo ti dà proprio una bella spinta che un'auto termica non avrà mai io spero di essere stato abbastanza esaustivo e di avervi di essere riuscito a rispondere a tutte le domande che sono arrivate durante questa bella ricca puntata del chiedilo a Matteo ovviamente potete continuare a farmele su tutti i canali di automoto.it anche sulle Renault e io vi risponderò per quello che so per quello che posso sapere per quello che ho provato a studiare a capire studiandole prima e guidandole poi però devo dire che la notizia qui è una e-tech Renault una tecnologia davanti a cui io mi sono tolto il cappello bello quando i costruttori ci provano a fare qualcosa diverso dagli altri e beh ancora più bello quando poi lo fanno diverso e poi ci sono dei risultati concreti qui abbiamo un ibrido che è diverso da guidare rispetto a quelli attuali Toyota Hyundai per intenderci diverso quindi nel feeling di guida diverso in termini di efficienza ed è molto efficiente e quindi un sistema ibrido che è anche molto efficace e quindi la morale di questa puntata che le chiede a Matteo secondo me è bisogna andare in concessionaria se avete tempo se avete voglia se vi intriga anche a voi questo ibrido se avete voglia di guidarlo come ho avuto voglia di guidarlo io una volta arrivato beh fatevi un bel giro in concessionaria per esempio qui alla Renault di Brescia Gruppo Carmeli e provatele provatele tutte stressate i venditori per capire come sono fatte sono qui apposta il plug-in non il plug-in il full hybrid e non il full hybrid perché ognuno in base a che tipo di automobilista è ha l'elettrificata l'auto elettrificata che gli si addice di più o la plug-in o il full hybrid o anche il full electric e poi c'è questa bella opportunità in questa concessionaria che potete tenervele per 24 ore spupazzarvele per bene studiarvele e apprezzarle e capire se effettivamente fanno per voi io vi ringrazio per essere stati con noi qui di automoto in questa nuova bella puntata in diretta spero bella del chiedilo a Matteo per cui non mi resta che salutarvi io e le Renault iTech vi salutiamo anche perché se è fatto una certa immagino che bisognerà andare a cena ciao alla prossima puntata del chiedilo a Matteo in diretta ci vediamo su tutti i canali di automoto.it ciao dalla concessionaria Brescia gruppo Calmeri Renault alla prossima ciao da Matteo